La sua ricandidatura era scontata. Visto i progetti messi sul tavolo e l'impegno profuso in questi cinque anni, Dario Corvi, sindaco di Aprica, intende a portare avanti il suo impegno amministrativo. Aprica ha in cantiere un piano di investimenti per i prossimi anni da 8,5 milioni. In questi giorni sono anche partiti i lavori di sostituzione della seggiovia alla Piana dei Galli. L'impianto, situato nella schiaria Magnolta, è andato in pensione dopo 40 anni di onorato servizio. La realizzazione della nuova seggiovia sarà il primo passo del rinnovamento della schiaria, che vedrà altri interventi previsti dal patto territoriale Comprensori, Aprica, Cortenogoggi, Teglio 2030. Un piano recentemente finanziato da Regione Lombardia. Noi andiamo verso la conclusione di questo primo quinquennio, dove credo abbiamo fatto cose importanti. Siamo riusciti a completare grossa parte del nostro programma, ma soprattutto anche abbiamo messo in piedi tantissime altre cose che in realtà cinque anni fa non eravamo nemmeno immaginato, ma siamo riusciti a portare avanti grazie ad accordi particolari fatti soprattutto con Regione Lombardia. I prossimi cinque anni saranno, credo, decisivi per il futuro di Aprica, che cambierà moltissimo oltre quello che è già stato fatto in questi cinque anni. Per cui come gruppo siamo stati compatti e anche questa cosa non è scontata, non è banale. Lo stimolo e la voglia e la volontà è quello di proseguire in questa direzione. Serve però anche uno scatto, un maggior coinvolgimento con i privati, forse meno divisioni e più lavoro d'insieme, come ricorda il sindaco Corvi e questo vale per il turismo e non solo. Le infrastrutture adesso le abbiamo realizzate e programmate. Quello che vorremmo provare a fare è coinvolgere maggiormente il rapporto tra pubblico e privato e quindi investire anche sulla costruzione. Questo penso sarà la parte importante di un consorzio, chiamiamolo come vogliamo, di tipo turistico, che possa portare dentro e far lavorare in forma più unitaria e continuativa le amministrazioni, quindi sia Aprica che Cortano che ovviamente sta sul nostro territorio, le società degli impianti che anche qui stanno andando verso una fusione per cui saranno più unite e ci sarà maggior capacità di coordinamento, scuole di sci e un po' a tutti gli operatori economici che sono sul territorio, albergatori. Questo passaggio credo sia fondamentale per riuscire a cambiare passo definitivamente per la nostra località. Elezioni comunali 2022, dicevamo. Si voterà domenica 12 giugno. In Valtellina sono sette i comuni chiamati al voto. Aprica, come detto, ma poi anche Campodolcino, Tartano, Valmasino, Val di Dentro, Val di Sotto e Val Furva. Il governo è inoltre deciso di far coincidere le amministrative con il voto per i cinque referendum sulla giustizia, quindi il 12 giugno tutta l'Italia andrà alle urne anche dove non si vota per il nuovo sindaco.